La 31esima Racci ha chiuso i battenti con un successo sopra oltre ogni aspettativa, un'edizione segnata dal nuovo logo e dal clima di Expo Milano 2015, che ha portato anche a Villa Potenza una tre giorni di laboratori e proposte legate al mondo agricolo e al cibo, una vera e propria festa per gli occhi, il gusto e lo spirito. Tra i oltre 420 espositori, un ruolo cruciale lo hanno avuto le associazioni di categoria, con i loro produttori che hanno riempito i padiglioni della fiera con eccellenze enogastronomiche del territorio. Insieme al concorso della razza bovina marchigiana con 24 allevatori provenienti da Marche e Umbria, protagonisti sono stati gli animali all'aria aperta, 80 cavalli, 40 asini, per la gioia dei più piccoli. Sono stati infatti oltre 800 i bambini coinvolti nelle attività didattiche e quasi 300 nelle attività equestri. Un padiglione è stato riservato ai colombi alla schiusa delle uova e alla nascita dei pulcini, un altro alla gara di tossatura delle pecore. È stata un'edizione dedicata più che mai ai laboratori del gusto e alle degustazioni, molto attivi anche i due istituti scolastici superiori della provincia, l'agraria di Macerata e l'alberghiero di Cingoli, con diverse attività legate allo slogan Nutrire il pianeta. Non sono mancati gli spazi dedicati all'attività sportiva e al benessere, dalle attività equestri al nordic walking alla canoa. Ben 2.560 piatti di polenta sono stati distribuiti gratuitamente nelle serate di venerdì e sabato, grazie all'impegno del Comitato Parrocchiale di Santa Maria in Selva e del Parroco Don Peppe. Tra le eccellenze anche gli spettacoli serali di musicultura con la direzione artistica di Piero Cesanelli. La RACI di quest'anno, ha sottolineato il presidente della provincia Pettinari, è stata un inno alla collaborazione, all'impegno e all'orgoglio del nostro territorio. Ha prevalso su ogni ostacolo affrontato la forza della nostra gente, la qualità dei nostri prodotti e la longevità del nostro vivere.